Un applauso per Riccardo per favore, non solo per Paola, scamponi, applaudi alla diversità di genere, mi sono sempre spellato le mani, tu sei spellato le mani a portarle sulla parte alta dove si dà la bocca, ma tu stai zitto, vi è un po' qualche cosa per il mio conto. Tu puoi anche parlare, parla un po', tanto le parole non ti mancano mai, mai, giusto? Io vedo la classe con cui Riccardo utilizza quelli che sono dei mini, tubetti, a me mi ricordo un'altra cosa, però, insomma, quelle non servono per fare le analisi, ecco, questo è sicuro. Esatto. Adesso Riccardo, senti, ma gliela mandiamo direttamente a casa, senza gentilmente farla uscire sulla stampa, su queste cose qui, ecco, Monica gli sta portando l'acqua, l'acqua del divino amore, prima ha messo quella, no, sul serio, quella è l'acqua benedetta del divino amore, quella è la Madonna di Cestecova, vedi quella che ha appena messo, viene dalla Polonia, viene dalla Polonia, un essere blasfemo, della Polonia, della grotta di San Michele, ecco, adesso sono i colori della pace, della pace, la penna tua è rotta, è rotta, com'è? una penna va e un'altra viene, ecco, spiega Pino, adesso guardate questo blu che diventa azzurro, adesso tirate le battute, se voi vedete qui ci sono delle foto che poi potete pure continuare, non solo famosi, soprattutto quelli che sul territorio lavorano da qualche tempo, cioè anche Rina, allora questa servirà a leggere quello che voi fate, quello che voi siete, paradossalmente sembra una cosa che è impossibile, invece come vedete ci sono esposti e in più la foto viene riprodotta su questa carta d'identità che voi vedete e viene così, con lo sotto quello che diciamo così, in quel contesto uno si sentiva, era, faceva e quant'altro. Dile fare il testamento? Sì, dile fare il testamento? No, no, è detto il testamento.